Io volevo ricordare un po' a tutti che stiamo parlando di una banca che comunque Banca d'Italia ha commissariato e il governo ha portato alla sua fine, alla sua morte. Quindi questo governo, il governo Renzi, al di all'epoca, e quindi il governo in cui era ministro Boschi, è un governo che ha spinto Banca Etruria e le altre tre banche alla fine, alla morte, mi dispiace usare un termine, non è un governo che ha cercato di sostentare banche che erano marce, che erano svuotate, non se ne poteva più. Quindi è un governo che ha fatto fino in fondo il suo dovere, non c'è stato nessun favoritismo nei confronti. Questo non te lo so dire francamente, vedremo gli effetti del caso Boschi nei prossimi giorni, perché quando ci sono di mezzo le parole banche e risparmiatori fregati, di solito poi l'opinione pubblica reagisce, ma può anche darsi che non reagisca. Travaglio, fregati da chi? Fregati da chi, Travaglio? Scusi tanto, fregati da chi? Ma scusi, ma lei che cosa fa? Devo rendere conto a lei di quello che sto dicendo? In che veste? Ma chi è lei l'avvocato difensore? Che sta facendo? Mi lascia parlare? Io sono una che rispetta la logica però. Allora facciamo finire Travaglio? Marco Travaglio. Sono centinaia di migliaia di risparmiatori fregati dalle banche. Una di queste banche era amministrata molto bene, come abbiamo visto, dal padre della Boschi. E di che cosa stiamo parlando? Posso parlare di risparmiatori fregati o si incazza la Fusani? Altrimenti ci dica lei che ha amministrato così bene la banca Etruria. E ci spieghi perché il padre della Boschi ha indagato. Noi sono senza dubbio stati fregati. Io cercavo di invitare, a evitare una connessione causa effetto. E' fregati io? Gli ha fregati il fatto quotidiano? No, ma neanche la Boschi, che c'entra la Boschi con la fregatura dei poveri correntischi di quella banca, della banca Etruria? Forse c'entra suo padre, visto che è stato multato dalla Banca d'Italia per la mala gestione di quella banca, no? Stiamo parlando di questo? Ma posso parlare senza che questo fastidioso rumore di fondo continui a rompere le scatole? Altrimenti parli la Fusani, il collegio difensivo d'ufficio. Grazie per il fastidioso rumore di fondo. Marco Travaglio? Sì, esatto, è proprio quello che sento. Visto che non li vedo, sento solo questo fastidioso rumore di fondo. Molto cortese. Allora, al di là del fatto che non ci offendiamo nessuno in questa trasmissione, Marco Travaglio. Stavo rispondendo a una domanda di Lillie Gruber. Non ho la più pallida idea del perché dei sondaggi. Vedremo come ricadrà nei sondaggi il caso Etruria, perché quando si parla di banche e di risparmiatori fregati sono temi abbastanza caldi e sensibili per una gran parte dell'opinione pubblica. Scoprire che tra queste banche decotte ce n'era una che poteva godere dei favori del governo grazie alla presenza nel governo della figlia del vicepresidente di quella banca è sicuramente un elemento che scandalizzerà qualcuno dei risparmiatori fregati, i quali evidentemente dovranno sperare che la banca che li ha fregati abbia a sua volta un ministro di riferimento che possa sponsorizzare il loro istituto per il suo salvataggio. Istituto che poi quando sono falliti tutti i tentativi di salvataggio è stato commissariato perché era obbligatorio per legge, c'era un provvedimento della Banca d'Italia. Non è il governo che si è svegliato una mattina e ha deciso di commissariare le banche. Era un atto dovuto che è seguito a mesi e mesi di tentativi di rifilare questa banca a Flavio Carboni e ci ha detto De Bortoli anche a Onicredit solo ed esclusivamente perché il vicepresidente era il padre di un ministro e perché il ministro era il figlio del vicepresidente. In tempi berlusconiani si sarebbe nominato il conflitto di interessi. Ora ovviamente dato che non ce l'ha più Berlusconi o meglio ce l'ha sempre Berlusconi ma in questo caso ce l'ha la famiglia Boschi non se ne deve più parlare ma si chiama sempre conflitto di interessi. E purtroppo tutti i fatti che vediamo ogni giorno ci spiegano per quale motivo per vent'anni il centro-sinistra non ha fatto una legge sul conflitto di interessi. E perché non l'ha fatta neanche Renzi? Perché il suo governo e il suo anturagio sono pieni di conflitti di interessi. Esattamente, esattamente. E il centro-sinistra ha governato gli altri nove. Guarda caso. E non ha fatto assolutamente niente. E non ha fatto assolutamente niente.